Sono arrivati 110 milioni per la messa in sicurezza e la ristrutturazione delle scuole della provincia di Teramo, questa è una buona notizia? Sì, questa è una notizia buona, ecco ieri in cabine di regia con l'USR e il presidente di Regione Abruzzo sono state individuate 110 milioni di euro di finanziamenti per la provincia di Teramo che saranno poi trasformati con un decreto entro il 15 novembre dal commissario Legnini ed è una notizia importantissima perché così troveremo copertura per l'adeguamento sismico di tanti edifici per l'abbattimento di costruzione di altri edifici, però approfitto qui perché notizie positive che dovranno essere a sistema per fare le opere, anche qui saranno delle procedure più accelerate di quello che vediamo in giro non si perderanno 10 anni ma sarà molto meno la possibilità di vedere delle scuole realizzate intanto preciso che per l'Ipsia invece, come abbiamo detto, abbiamo fatto l'avviso pubblico sono arrivate delle manifestazioni di interesse, ridaremo per il 2022 un plesso unico ecco ridare l'identità all'Ipsia Marino per noi era strategico e un altro anno ridaremo un plesso nuovo a loro Una buona notizia anche dal Consiglio Provinciale che c'è stato ieri è stato approvato il bilancio consolidato del 2020, c'è un avanzo di oltre 1.600.000 euro Sì, ieri è stato fatto il rendiconto consolidato, abbiamo un avanzo di 1.600.000 sono altri soldi che metteremo per le strade e faremo una cosa in più metteremo circa 300.000 euro da parte per fare le progettazioni esecutive delle piste ciclabili quella del Vomano, quella del Tordino e quella sul Salinello perché dobbiamo essere pronti per avere grossi finanziamenti ed avere progetti cangerabili e noi facciamo questo, sistemiamo un po' le strade e faremo anche i progetti esecutivi per poter essere poi portati a finanziamento